Siamo gli unici, è una grande iniziativa e l'opportunità di ricordare a tutti i cittadini che lunedì, mercoledì, sabato e domenica dalle 20 alle 24 gli ospedali sono aperti in tutto il Veneto. Grandi diagnostiche, quindi TAC, risonanze magnetiche e i risultati ci danno ragione. Si danno ragione perché cito due ULS come esempio, Vicenza che ha già 700 prenotazioni di TAC e Treviso, un'altra ULS del dato che mi ricordo, ha già erogato 500 prestazioni e ne ha per fine anno programmate 2300. Il che vuol dire che il sistema funziona, ringrazio tutti gli operatori del mondo della sanità per quello che fanno e per il sacrificio che hanno fatto, quindi i medici, gli infermieri e le persone amministrative. A Treviso chiedono anche già di assumere un nuovo personale. Beh, è una partita che vogliamo affrontare, l'affrontiamo con serenità, abbiamo già chiuso un primo accordo con 30 milioni di euro a livello Veneto per questo primo sforzo, che è un grande sforzo che chiediamo agli operatori. Dopodiché io sono convinto che l'ospedale aperto di notte sia un cambiamento culturale e questa evoluzione culturale ci porterà a pensare un ospedale che vive di notte per la diagnostica e un ospedale che vive di giorno per la cura. Un ospedale di questo tipo è economicamente sostenibile? Avete fatto già dei primi bilanci? No, è un ospedale che guadagna, nel senso che guadagna in qualità di erogazione dei servizi, che rende attore protagonista il cittadino quando c'entra perché entra in un ospedale non congestionato, ma soprattutto è un ospedale che riesce ad ammortizzare le sue attrezzature in maniera unica. Macchine che lavorano di più si usurano prima, le cambiamo prima e abbiamo come riscontro macchine sempre innovative all'avanguardia per la diagnostica. Grazie. Grazie.